buongiorno a tutti oggi abbiamo il piacere di avere con noi santi maurizio grasso direttore commerciale di da per sistemi integrati che ci parlerà di quella che è l'esperienza che questa società molto nota nel mondo della sicurezza che opera da decenni ha sviluppato nel mondo soprattutto portuale che rappresenta una sorta di sintesi di tutte le competenze in ambito security e safety che fanno parte di tutto il mondo della sicurezza nel suo insieme ecco se puoi darci quelle che sono le indicazioni di quello che il vostro modo di approcciare questo mondo molto particolare certamente allora innanzitutto grazie raffaello del di questo invito sicuramente come dicevi tu il la security portuale è uno degli ambienti più complessi che un'azienda che si occupa di sistemi di sicurezza possa trovarsi a gestire è complesso perché il porto pochi lo sanno nel porto è sicuramente molto più ha delle problematiche molto più ampie rispetto anche agli aeroporti rispetto anche a tutte le altre infrastrutture che siamo abituati a gestire i porti tra l'altro hanno una dimensione sia in termini di proprio fisici sia in termini di tra volumi di traffico che che passano perché per questa infrastruttura è molto elevato il che rende maggiormente complessa come dire tutta l'attività di security eh la nostra esperienza nasce da circa una una decina d'anni una dozzina d'anni di eh progetti fatti in ambito portuali con diverse autorità portuali abbiamo realizzato più porti eh in in Italia ma anche abbiamo realizzato sicuro eh la sistema di sicurezza dei termini quindi delle infrastrutture all'interno dei porti nel contempo abbiamo anche visto una serie di progetti internazionali sicuramente ci hanno arricchito in termini di division futura no perché sono quasi sempre erano dei porti che nascevano come dire con quasi da zero con una vision molto molto spostata al futuro quindi molto più automazione molto più digitalizzazione eh come dicevo la l'esperienza sui porti ci ha insegnato che eh ogni porto è diverso perché su ciascun porto insistono traffici di tipo diversa e quindi le problematiche di sicurezza di ciascun porto sono diverse e questo è forse un po' eh il know how più importante quindi conoscere eh tutte le aree di un porto conoscere le problematiche di sicurezza che ci sono ciascuna di queste aree e eh sapere identificare le tecnologie e le soluzioni che insieme con i processi umani meglio si sposano per il controllo eh abbiamo in qualche misura in corso di questo eh decennio o o più di di esperienza sviluppato e sintetizzato una specie di modello che sostanzialmente racchiude eh queste queste informazioni e queste conoscenze per ogni area quindi quando noi arriviamo in un porto cerchiamo di studiare sicuramente prime traffici e quindi da questo capiamo quali sono le aree critiche e andiamo a identificare insieme con i responsabili di sicurezza eh tra l'altro un piccolo inciso i porti sono tra quelle poche infrastrutture in cui la security è normata cioè c'è un codice c'è una normativa che dice come bisogna quantomeno procedere quali sono i passi in cui bisogna procedere. Una normativa internazionale. Sì è una normativa SOLAS cosiddetta ISPS Code nata dopo l'undici settembre ovvero dopo gli attentati insomma che drammaticamente conosciamo tutti e che ci ha eh che ha sostanzialmente eh voluto diciamo portare una logica di sicurezza complessa per la protezione di queste infrastrutture con la paura che sostanzialmente fossero diciamo delle infrastrutture usate per il transito internazionale eh di armi o peggio ancora di ordigni nucleari a supporto per il terrorismo quindi la paura era che qualcuno sbarcasse sul 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 suolo patrio un ordigno nucleare tramite un porto no ecco perché anche l'importanza e l'estensione diciamo di questa normativa e e come ripeto all'interno di questa normativa eh sono previsti una serie di passaggi una serie di responsabilità anche degli enti e delle persone che che svolgono questi ruoli e quindi un qualcosa sicuramente di più organizzato di quello che vediamo negli altri settori. Eh la nostra esperienza come come dicevo appunto quella di di conoscere un po' tutte le problematiche delle diverse aree del porto e insieme con i PSO che sono i responsabili di sicurezza dei dei port seguiti officer quindi responsabili di sicurezza delle infrastrutture portuali andare a declinare le tecnologie che meglio si adattano a questo controllo. Un altro elemento fondamentale Raffaello ti volevo così segnalare è vista appunto questa eterogeneicità e questa complessità che che c'è all'interno portuale eh se non si utilizza una una piattaforma di supervisione un P-SIM come il nostro Galassia ma in generale un P-SIM insomma che integri tutte queste tecnologie e supporti i processi di controllo si ottengono risultati piuttosto scarsi visto che appunto come dino non è possibile basarsi su una sola tecnologia e dovendo gestire molte aree in contemporanea su un volume di traffico elevatissimo. E fra l'altro c'è anche la molteplicità di interlocutori con le quali voi dovete assolutamente diciamo un altro delle delle complessità nella complessità è appunto l'insieme di interlocutori che insistono su un porto quindi abbiamo sicuramente eh l'autorità portuale che in Italia è l'ente deputato alla gestione che tra l'altro è stato recentemente riformato sostanzialmente ehm come dire cercando di strutturarle in ambito regionale o pseudo regionale quindi con più porti gestiti dalla stessa autorità portuale ma al di là dell'autorità portuale ci sono i terminalisti alcuni dei quali sono molto importanti perché hanno delle delle infrastrutture che sono paragonabili sostanzialmente alle dimensioni dei porti stessi e poi ci sono tutti gli enti deputati ai controlli che sono sono n perché si parla dell'agenzia delle dogane quando abbiamo una parte di import export internazionale eh a volte la guardia di finanza abbiamo anche competenze ovviamente della capitaneria di porto oltre tutte le altre insomma forze di polizia che conosciamo polizia di brocchiera eccetera eh cioè quindi c'è un un come dire un insieme molto complesso no? di di interlocutori che hanno con responsabilità anche come dire eh suddivise e distribuite ecco un'altra cosa che ti volevo chiedere una delle caratteristiche dei porti che eh ospitano il traffico passeggeri è quella di dover gestire delle quantità molto importanti di persone che entrano ed escono meglio che scendono e salgono dalle navi che quindi richiedono anche delle degli approcci credo assolutamente dedicati no? Hai ragione perfettamente pochi lo sanno diciamo ma eh innanzitutto il traffico grossieristico per un porto da un punto di vista di 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 economico è molto rilevante quindi i porti che sviluppano un buon livello di di business sul traffico grossieristico sono i porti che hanno più eh più economia diciamo quindi sono sono in grado tra l'altro di fare più investimenti eccetera 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 e eh un termine alla crociera all'interno di un porto è totalmente paragonabile a un aeroporto con una complessità che se c'hai due navi da quattromila persone ormeggiate in banchina ti trovi delle mattine a dover controllare quindi con la stessa logica del traffico passeggeri quindi eh in un aeroporto quindi controllo bagagli eh controllo delle singole identità personali con passaporti e quant'altro è un aeroporto ma il volume di traffico che a volte in alcuni momenti può dover gestire e di migliaia di persone in un in un'ora magari mille duemila persone si imbarcano per una crociera e con la che c'hai due mila passeggeri. Venti aerei contemporaneamente. Esatto è come un un grosso superaereo che è attraccato. E questo implica chiaramente delle complessità ulteriori molto esattamente. Molto importante da un punto di vista sia gestionale che anche di infrastrutture da poter mettere a disposizione. Assolutamente hai ragione e i porti hanno investito tra l'altro in cui per adeguarsi chiaramente. Quindi diciamo il termine a crociere a del fabbrica di viaggiatori a diciamo metal detector e scanner bagagli in quantità sufficiente a supportare questi traffici e quindi con una complessità del numero di già solo come dire trattare un certo numero di persone dell'ordine delle migliaia di per sé no? Ha una complessità. Eh sì eh sì. Ma basta pensare poi anche ai raggetti. Insomma ci sono un gestire in un porto veramente solo chi lo conosce sa quante complessità ci sono all'interno. Eh sì. Beh io ti ringrazio molto perché diciamo che la fotografia che ci hai dato in pochi minuti consente comprendere intanto qual è il ruolo del system integrator nel vero senso della parola che è appunto quello che tu hai descritto e poi rappresentate e incarnate mi viene da dire nella maniera più come dire più specifica più diretta che è quella appunto di poter mettere insieme tutte quelle che sono le diverse esigenze della vostra committenza e trovare le soluzioni idonee e dall'altra parte avvalervi di quelli che sono i partner specifici più adatti per poter rispondere nel modo migliore e quindi quello che è il ruolo centrale del sistema integrator. Dall'altra parte è quella che è appunto la complessità del porto che appunto è di fatto e sintetizza tutto e tutto potremmo dire tutto il now out. Tutti gli altri modelli di sicurezza conosciuti diciamo in qualche modo. Bene molte grazie Maurizio. Grazie a voi Raffaele. Di approfondire ulteriormente i nostri argomenti. Grazie. Grazie Raffaele. Grazie a voi.